Siamo al bocciodromo di Feiano, a Barano, importante evento, con noi Antonio Barbato. Presidente, un evento importante qui a Dischia, stiamo facendo delle selezioni per delle finali importanti. Sì, certo, è un bel evento qui a Dischia, è una competizione interregionale dove partecipa la Sardegna, la Calabria e noi della Campania. La vincente di questa selezione andrà a disputare i campionati nazionali in Piemonte, molto probabilmente, non è ancora stata fissata la sede, con la vincente del girone nord-ovest. Non manca la selezione ischitana, a quanto pare, è stata eliminata proprio da poche ore? Sì, è stata eliminata da Avellino in una bella manifestazione, in una bella competizione, in verità, tirata fino alla fine. Dischia paga un poco l'isolamento che ha dal resto della regione e dal resto dell'Italia per le difficoltà a raggiungere le altre sedi, gli altri impianti della federazione. Andiamo a spiegare un po' questo campionato e soprattutto le bocce. Sembrano uno sport eterno, però secondo me c'è tanto di nuovo anche in questo sport. Certo, c'è molto di nuovo, soprattutto in questo periodo dove stiamo mettendo in essere il progetto Fib Scuola, in collaborazione con i provveditorati e gli studi della Campania, il CONI e la federazione italiana bocce. Stiamo avendo un bellissimo successo, infatti abbiamo circa mille alunni di scuole elementari e scuole medie, abbiamo anche qualche liceo, che ci seguono in questa nostra disciplina. Si sta verificando, paradossalmente, rispetto della poca pubblicità che noi abbiamo, che le scuole sono molto soddisfatte del nostro lavoro, in quanto abbiamo gente esperta formata dalla federazione, che insegna nelle scuole che cos'è la federazione italiana da bocce, avviandoli pian piano a conoscere la boccia e i nostri impianti. Ma tutta finale, poca pubblicità, poche anche le strutture? Sì, sono poche le strutture, soprattutto qui al sud, perché noi abbiamo in Campania, ad esempio, abbiamo due discipline della federazione. Abbiamo il settore volo, la specialità volo, che è qui che si disputa a Dischia, e poi abbiamo la specialità raffa, molto più frequentata nella nostra regione. E gli impianti languano un po', c'è molto di privato, il pubblico incomincia ad essere un po' coesoso, in quanto i comuni stanno raschiando il fondo, quindi pretendono anche dai nostri impianti, dalle nostre società, contributi a roba del genere.